Anche il candidato sindaco Raffaele Pesce del movimento civico Liberi e Forti affida ai social un suo manifesto programmatico per invitare i cittadini ad abbracciare il suo progetto politico alternativo. Il rilancio di una città, sottolinea Pesce, in un posto su Facebook deve partire dai rapporti umani, civici e civili per poi passare alla politica e dall'economia. Gli eventi susseguitisi negli ultimi mesi ed ancor più negli ultimi giorni mettono in risalto una città disgregata umanamente, prima che politicamente. La mia linea pertanto si rafforza quotidianamente nella convinzione che ci sia bisogno di un cambiamento nei modi e nei fini della politica locale. Come si legge nel suo manifesto, l'ascolto, il confronto con gli altri, l'attenzione ai bisogni reali è così che vogliamo promuovere e condividere un grande progetto di crescita che coinvolga l'intera comunità. Il nostro movimento è giovane, dinamico, determinato perché tutti i suoi componenti sono parte integrante del tessuto sociale. Sono persone impegnate in ogni aspetto del vivere civile, dalle attività produttive all'agricoltura, dal turismo alla cultura, dal commercio allo sport. Agropoli merita un salto di qualità. La sua bellezza, la sua storia, le sue ricchezze non possono essere più trascurate o asservite a interessi di parte. Per cambiare il paese investiremo sul futuro dei nostri figli, puntando sull'entusiasmo dei giovani e sull'esperienza degli adulti. Uniremo competenza e determinazione per superare lo sterile individualismo e tracciare un percorso civico comune, capace di appassionare e premiare tutti i cittadini.